Siamo qui al Centro Tau con il Sindaco di Palermo, buonasera. Buonasera, il Centro Tau è P su Fers, detto così non si capisce niente. Questo è sostanzialmente un centro che ormai opera da 28 anni, opera in via Cipressi, opera nel cuore della città di Palermo e opera per promuovere la creatività, l'intelligenza, anche l'innovazione da parte dei giovani di questo quartiere e di questa città. È un piano finanziato con fondi europei che vede ovviamente il sostegno e la partecipazione del Comune di Palermo e che è possibile realizzarlo grazie a tante persone, penso soprattutto a Francesco Di Giovanni, ma i tanti che con lui, da sempre hanno creduto a questa operazione. La ragione per la quale essere qui presente tutto il pomeriggio è un modo anche per celebrare nel modo migliore il Natale. Che cos'è il Natale? Se non un inno alla vita. E qui certamente si sta celebrando un inno alla vita, come viene confermato dai ragazzini che fuori mi aspettano felici e che spero possano frequentare questo centro e trovare nuove professionalità. Scopirsi musicisti, scopirsi radio operatori, scopirsi operatori della televisione, scopirsi sostanzialmente una cosa molto semplice. Di essere lì e di scegliere cosa fare. Auguri e buon Natale a tutti. Grazie.